Adesso il basket di promozione femminile, il Panvit ieri sera ha vinto all'Ograto ma brucia ancora la sconfitta con il Pizzighettone. 63-42 ieri sera all'Ograto per il Panvit San Giorgio, una vittoria tranquilla per le Mantovane contro l'ultima della classe. Il successo consola almeno in parte le ragazze di Nives Regattieri, reduci dal K.O. Casalingo contro il Pizzighettone, sfida cui si riferiscono le nostre immagini. Il turno di riposo ha fatto male al Panvit, la partita è stata equilibrata solo nelle fasi iniziali, finché le Mantovane sono riuscite a giocare bene a zona, ma nella marcatura a uomo sono emerse le prime pecche. Le San Giorgine hanno banalmente sprecato tanti palloni, sia in azione manovrata sia dalla lunetta. Nel secondo tempo il Pizzighettone ha preso il largo mentre il Panvit ha smesso di lottare. Top scorer il play Mari Carusso con 16 punti. In classifica ora il Pizzighettone e il Panvit hanno gli stessi punti, 16, ma le San Giorgine hanno una partita in più. Domani il Pizzighettone sarà a Castegnato. Il San Giorgio tornerà in campo il 13 marzo contro l'Uisp Manervio. Altra sfida da prendere con le molle, visto che le Bresciane sono la terza forza del campionato con 14 punti.